umane. E allora grazie di questo nuovo invito, dico nuovo perché ormai sta diventando quasi una tradizione, nel senso che già ci siamo incontrati non proprio in questa sala ma qui a Modena due anni fa. Vorrei dire, per parlare della stessa cosa, no, nel frattempo sono successe tante cose nuove di cui dobbiamo parlare e che cercherò di sintetizzare oggi, ma l'area tematica è ancora quella e non è un caso che già allora la materia fosse stata presentata con l'occasione dell'uscita di questo mio libro, l'intelligenza del lavoro, che era allora fresco di stampa. Già allora si cominciavano a manifestare, erano diciamo l'oggetto di studio, di osservazione, nel primo capitolo di quel libro, ma allora ancora era un'osservazione isolata e io addirittura sono stato un po' rimbrottato dai miei colleghi giuslavoristi, i cultori delle scienze sociali, per aver parlato, aver posto al centro della del del discorso questo fenomeno del lavoratore che si sceglie l'imprenditore che appariva ancora un'aporia, un qualcosa di neanche provocatorio, paradossale, nonostante che i segni che questo stava accadendo fossero già allora molto marcati. oggi ne riparliamo sulla base di un accumulo di dati molto rilevanti che confermano e accentuano, rendono molto più evidente quello che allora, se vogliamo, si presentava appunto in modo meno evidente. i due fenomeni sono questi. Sempre più di frequente le imprese hanno difficoltà a trovare le persone che cercano. Vi proporrò alcuni dati a questo proposito. L'altro fenomeno, la maggior parte delle persone è sempre più capace di scegliere l'azienda nella quale lavorare. questi due fatti mettono in discussione proprio dalla base, dal fondamento, il nostro modo di considerare il mercato del lavoro. io insegno diritto del lavoro. Tutti i manuali trattati di diritto del lavoro partono nelle prime pagine spiegando perché l'ordinamento giuridico, l'ordinamento statale si pone il problema di proteggere una parte, la parte debole e spiegano questo intendimento dello stato, del legislatore, del policy maker, con lo schema ma dello squilibrio strutturale fra domanda e offerta di lavoro. scarseggia la domanda, l'offerta è estremamente abbondante. In questa situazione il lavoratore, la persona, è diciamo in uno stato di debolezza, è esposta alla prepotenza, allo strapotere della controparte. Questo modello, questo schema, gli economisti lo chiamano monopsonio strutturale, è una brutta parola, ma se si fa vedere è facile da capire, è la situazione del mercato del lavoro all'indomani della prima rivoluzione industriale. quando la fabbrica, che è l'unico luogo che consente di valorizzare il lavoro manuale, il lavoro dell'operaio, un po' di più di quanto miseramente esso venisse valorizzato dall'agricoltura, oltretutto valorizzato solo per quattro mesi o cinque all'anno e non per dodici mesi, quell'impresa era una cattedrale nel deserto, c'era solo quella di fronte alla grande oceano della disoccupazione o della suttooccupazione agricola. lì le cose stavano esattamente nei termini che sono, diciamo, sintetizzati bene nel modello del monopsonio strutturale. Ma le cose non stanno più così, e se non stanno più così allora bisogna chiedersi qual è il fondamento. Guardate, io, lo vedrete subito, non sostengo affatto che non ci sia più un problema di protezione del lavoro, c'è ancora, ma è un problema completamente diverso, strutturalmente diverso rispetto al secolo passato, rispetto a quella situazione tipica di cui appunto ho fatto ceno. quindi questi due fenomeni che adesso cerchiamo di approfondire ci impongono di ripensare il sistema della tutela, della protezione del lavoro e le tecniche di cui questo sistema si avvale, e quindi di ripensare anche dalle fondamenta il sistema stesso delle relazioni industriali. guardiamo alcuni, un po' di rassegna stampa, lavoro, introvabili quattro figure su dieci, i profili più richiesti, reperibili solo tre medici su cento, il trenta per cento degli operai degli specialitati, va bene, voi qui vedete la prima, le prime righe di una tabella fornita dall'indagine Union Camere Ampal, aprile 2022. addirittura vedete che i casi di difficoltà di reperimento superano la metà nel settore metalmeccanico, nel settore del legno, sono poco sotto la metà nella meccatronica e così via scendendo. se disaggreghiamo i dati in riferimento a categorie e livelli, parlavamo di settori produttivi, la situazione è ancora più impressionante. Abbiamo alcune figure professionali per le quali addirittura la difficoltà è del 65, in due casi su tre si ha difficoltà a trovare specializzati del tessile abbigliamento, fonditori, saldatori, meccanici e così via. E vedete come in questa graduatoria si mescolino figure che qualifichiamo, diciamo secondo la griglia tradizionale, come operai specializzati, con figure di operai qualificati, con figure di ingegneri, addirittura di laureati, medici, ingegneri, con figure di dequalificati, non si trovano neanche i manovali. Quindi non è un problema che sia limitato alle zone alte del mercato del lavoro, è un problema che riguarda l'intero mercato del lavoro. Qui siamo sempre a una tabella della primavera dell'anno passato. Sono ulteriormente peggiorati questi numeri, ho visto i dati di Poggio. Lo vediamo subito. Questi sono dati Union Camera e Ampal del 2022, però in realtà il fenomeno esisteva già, e voi lo vedete per esempio, da questo ritaglio della stampa del 2012, dieci anni fa, che diceva il paradosso del Made in Italy, le aziende cercano personale ma il mercato non ha risposto. E quindi non è vero che è una novità. Ma c'erano i segni che si andava in questa direzione, che il mercato del lavoro stava trasformandosi in questo modo. Erano già abbastanza evidenti a saperli cogliere. I cinquantenni esperti sono stati rottamati per risparmiare, per i giovani invece mancano formazione e orientamento. E su questo torneremo. Questo fenomeno si conferma nel momento culminante della crisi da pandemia. Questo è un ritaglio del sole del 2 febbraio 2020, un milione di posti di lavoro ma il 30% è vacante e vedete introvabili 355.000 profili professionali. E poi la mancata corrispondenza tra domande e offerta sul mercato del lavoro denunciata a più riprese dalle imprese comincia ad assumere dimensioni preoccupanti. In realtà abbiamo cominciato ad assumerle già da parecchi anni. e la cosa impressionante è che il fenomeno sembra accentuarsi, quel ritaglio del sole è del febbraio 2020, quindi nell'occhio del ciclone della crisi, e il fenomeno sembra accentuarsi nel momento in cui le assunzioni vanno giù del 26,5%, quindi crisi, recessione, eccetera, e però in un caso su due le imprese non trovano le giuste competenze, meno 9 punti, cioè più 9 punti di difficoltà rispetto al 21. Quindi nel momento di crisi la difficoltà aumenta, è veramente paradossale. E qui siamo al sole 24 ore del 15 ottobre del 22, poche settimane fa. Questo è il Corriere della Sera, qui il Corriere del 5 dicembre 22. Il lavoro c'è, ma non ci sono i lavoratori adatti, i lavoratori che siano in grado di ricoprire le... e qui leggiamo la conclusione del corsivo, il lavoro c'è, anche tanto, sono i lavoratori specializzati e non solo, che mancano. Se ne parla poco, eppure anche questo è un fattore di crisi. Quanto ci costa in termini di mancanza di crescita e o resistenza alla recessione che verrà? E poi il tema del giorno, la Great Resignation, di cui si è parlato all'inizio, quando si è cominciato a parlarne, subito è prevalsa l'idea che fosse un problema statunitense, che non riguardava l'Italia, invece no, subito dopo sono arrivati gli studi sul mercato italiano, che confermano, non che non esistesse già il fenomeno, però che il fenomeno ha subito un'accentuazione, ha cresciuto dinamismo del mercato del lavoro italiano, i lavoratori che rassegnano le dimensioni sono in significativa crescita, più 15-20% rispetto al 2019, trovano lavoro più rapidamente, si spostano più frequentemente a un altro settore oppure a un altro contenuto professionale, quindi non solo salto di settore, ma anche salto di mestiere, che anche questo è un fatto di notevolissimo rilievo. In altre parole, la persona ha una possibilità di scelta. Se prendete la Repubblica di oggi, c'è un'intervista a Enrico Moretti, il famoso economista che ha scritto La geografia del lavoro, che è anche consulente del governo italiano, oltre che del governo americano, statunitense, e dice mediamente mediamente le persone hanno almeno un'alternativa. Poi c'è tutta una metà di persone che ne hanno più d'una, ma insomma mediamente la situazione normale è quella di una persona che può scegliere, che può andarsene sbattendo la porta se viene trattata male da dove si trova. Previsioni per il gennaio-marzo 2023 sulla Repubblica del 4 gennaio, siamo ai nostri giorni, 1.300.000 vacancies, di cui 4 su 10 difficili da coprire. Operai e dirigenti, l'azienda non trova un lavoratore su due. Ecco quello a cui lei accennava adesso. Leggiamo, mezzo milione sono solo a gennaio, 1,3 milioni nei prossimi tre mesi di quest'anno, le imprese si preparano ad assumere almeno il 10% di lavoratori in più dell'anno scorso, ma è difficile trovare quasi la metà delle figure professionali ricercate. Ecco allora che se vogliamo tirarle fila, cercare di diciamo ricostruire il nostro sistema di guardare al mercato del lavoro, forse dobbiamo proprio rovesciare il paradigma, lo schema con cui noi guardiamo al mercato del lavoro. mercato del lavoro, sì, ma non solo del lavoro, cioè non solo luogo dove l'imprenditore cerca, trova, sceglie i propri collaboratori, ma anche mercato dell'impresa, luogo dove chi offre la propria mano d'opera, il proprio lavoro intellettuale o manuale, sceglie l'impresa, sceglie in base a molti criteri, non è solo l'imprenditore che sceglie e ingaggia i lavoratori, in molte situazioni sono anche i lavoratori a scegliere e ingaggiare l'imprenditore come individui e talvolta anche collettivamente, in base a quali criteri, è per esempio criterio del lavoro pubblico piuttosto che privato, che vuol dire cercare un luogo dove si è meno messi sotto stress, se vogliamo, un lavoro che non subisce la sfida della concorrenza, perché una volta che si è entrati il posto è tuo, cioè vige un regime di job property, e però la contropartita è una maggiore immobilità nel settore pubblico è più difficile muoversi e una minore retribuzione, le retribuzioni pubbliche scontano questa minore stress della persona, ma anche nel settore privato si sceglie tra settori produttivi diversi, si sceglie se andare in un'azienda di piccole dimensioni o in una più grande, ci sono le preferenze, il sociologo del lavoro Emilio Reineri ha fatto una ricerca molto interessante mostrando come nella stessa zona, in questo caso la Lombardia persone del tutto simili da un punto di vista sociologico esprimessero preferenza per la piccola impresa, per il rapporto personale con l'imprenditore o preferenza per la grande impresa e anche questa è una scelta mica da poco e non di piccolo conto. Dove c'è chi vuole star vicino a casa e chi invece si muove è disponibile ad andare altrove. Il dato che è verificato dalle analisi quantitative è che la quantità delle occasioni di lavoro cresce in ragione quadratica rispetto al raggio di mobilità del lavoratore cioè se la disponibilità a muoversi si raddoppia il numero di occasioni mediamente si quadruplica e se la mobilità aumenta di dieci volte le occasioni di lavoro aumentano di cento volte perché perché il numero delle occasioni è proporzionale all'area in cui si può spaziare e quindi l'area aumenta in proporzione al quadrato del raggio quindi facciamo un esempio molto banale molto elementare se ho una specializzazione che so in informatica per la musica perché mi piace suonare ho scelto questo ramo dell'ingegneria e ho una disponibilità a muovermi di 15 chilometri molto probabilmente troverò soltanto un posto da informatico o da musicista ma le due cose insieme non riuscirò a combinarle quindi non riuscirò a valorizzare la mia capacità specifica di metterli in informatica al servizio della musica la possibilità di trovare un'impresa che valorizzi questa mia capacità richiede che la mia area di mobilità si allarghi fino al punto da comprendere quel caso molto particolare e quindi probabilmente questo richiederà una mobilità di centinaia di chilometri e quindi un notevolissimo aumento del mio raggio d'azione e anche qui si pone una scelta un trade-off preferisco affrontare lo stress i costi di questa mobilità di questo spostamento rilevante o preferisco vedere valorizzate meno le mie capacità rispettate meno le mie aspirazioni pur di star vicino a casa anche questa è una scelta e è una scelta che le persone compiono e è una scelta a cui le persone devono essere educate soprattutto gli adolescenti è una scelta che richiede una formazione specifica e qui veniamo a quello che ci è stato detto da Foscati poco fa cioè va spiegato a un adolescente a un giovane all'uscita dal ciclo di scuola media inferiore e poi di scuola media superiore guarda se ti piace fare questa cosa specifica probabilmente hai bisogno di compiere questo investimento e quindi per esempio se vuoi lavorare nel settore della informatica combinata con l'acustica probabilmente devi andare in Germania perché qui in Italia imprese di quel genere non ci sono se vuoi coltivare queste tue aspirazioni devi fare questo itinerario di formazione perché altrimenti le tue aspirazioni non saranno soddisfatte ma e questo implica un sistema di orientamento scolastico professionale capace di raggiungere ogni adolescente all'uscita di ogni ciclo scolastico e su questo tornerò fra poco essenziale è avere l'informazione e la formazione necessaria metà della forza lavoro ce l'ha e quindi esercita questo potere e questa facoltà svalorizza ciò che il mercato le mette a disposizione un'altra metà ce l'ha un po' meno e quindi sceglie un po' meno e quindi ha un po' meno potere di mercato potere negoziale c'è poi l'ultimo o il penultimo che non ce l'ha per niente l'immigrato che non parla una parola d'italiano che magari ha studiato ingegneria all'università nel paese di origine ma non è assolutamente in grado di muoversi dal punto di vista geografico professionale della lingua quello è totalmente privo di una possibilità di scelta e quindi è alla mercè del datore di lavoro ma perché non perché manchi domanda per le sue capacità ma perché mancano l'informazione e la formazione e quindi vedete che il problema della protezione cambia e cambiano gli strumenti con cui lo si deve affrontare il punto è che la possibilità effettiva di scegliere il lavoro può e deve essere data a tutti questo cioè fare in modo che tutti abbiano questa possibilità di scelta non è un'utopia non è una provocazione il dire che il mercato del lavoro è anche un mercato dell'impresa cioè un mercato in cui sono i lavoratori a scegliere non è l'utopia o la provocazione è quello che dice l'articolo 4 della Costituzione che dice la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto cioè la possibilità di esercitarlo secondo le proprie possibilità e la propria scelta quindi il diritto di scegliere è un diritto costituzionale addirittura collocato nella prima parte della Costituzione neanche nel titolo terzo sui rapporti economici è uno dei diritti fondamentali quindi è un dovere del sistema di far sì che questo rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro diventi una realtà sempre più scusate uso un'espressione che è stata diciamo che rappresenta tutto un filone di pensiero importantissimo inaugurato da Amartya Sen e Martha Nussman l'empowerment il diciamo il mettere in condizioni una persona di esercitare effettivamente un diritto fondamentale è una cosa di grandissimo rilievo appunto Amartya Sen e Martha Nussman sottolineano che se non si attribuisce alla persona la capability la capacità effettiva di esercitare quel diritto quel diritto può restare lettera morta essere un flatus vocis una cosa che sta scritta lì ma non è nella realtà delle cose se vogliamo che il diritto di scegliere il proprio lavoro sia di tutti e sappiamo che non è un'utopia il sistema lo consente allora dobbiamo porci il problema di come dare la capability come dare l'empowerment e questo si fa assicurando alle persone le necessarie informazioni formazione efficacia assistenza alla mobilità dove è necessario in relazione alla domanda di lavoro tutte queste cose si chiamano politiche attive del lavoro si chiamano servizi per il lavoro e purtroppo in Italia questa voce questa materia non gode di buona stampa vi basti un dato noi spendiamo 30 miliardi l'anno per le politiche passive cioè indennità di disoccupazione cassa integrazione mentre ciò che spendiamo per le politiche attive si misura in centinaia di milioni cioè spendiamo un centesimo un ventesimo di quel che spendiamo per le politiche passive lo spendiamo per le politiche attive adesso c'è stata un'impennata 4 miliardi per il PNRR sulle politiche attive ma purtroppo c'è motivo di temere che non diciamo la direzione in cui questi investimenti avvengono non sia la migliore naturalmente l'altro modo per favorire la libertà di scelta è promuovere la più ampia possibile pluralità di imprese in concorrenza tra loro e questo è evidente e questo però è materia di politica industriale e non di politica del lavoro allora per tornare all'empowerment alla capability al capability approach sul versante della manodopera dell'offerta di manodopera dell'empowerment del lavoratore occorre la formazione professionale efficace e questo Bruno Trentin cioè segretario nazionale della CGL lo intuì addirittura all'inizio degli anni 90 quando disse nell'era dell'economia digitale e della globalizzazione la vera tutela del lavoro consisterà nella formazione permanente ed efficace la protezione fondamentale del lavoro sarà questo detto 30 anni fa fa molta impressione e però un diritto alla formazione si vede soltanto dal 2016 nel contratto dei metallmeccanici dei chimici nel contratto bancario ma ancora in misura minima parliamo di 8 ore l'anno 20 ore l'anno sono veramente delle briciole rispetto a quello che occorrerebbe e soprattutto senza un controllo serio su qualità ed efficacia della formazione e questo adesso dedico gli ultimi minuti di questa esposizione a mostrare come invece sia la parte essenziale del discorso che cosa garantisce che la formazione sia efficace occorre un monitoraggio permanente e capillare di questo dato il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi come si realizza questo questo monitoraggio semplicemente con un'anagrafe della formazione professionale come c'è l'anagrafe scolastica basterebbe che ci fosse l'anagrafe della formazione dopodiché si incrociano i dati tra l'anagrafe della formazione e le comunicazioni obbligatorie al ministero del lavoro sui posti i contratti di lavoro che vengono attivati le liste di disoccupazione l'iscrizione agli albi del lavoro autonomo dei mestieri insomma tutti i dati sul lavoro trovato rapporti che si costituiscono attività di lavoro subordinato o autonomo che si attivano e dall'incrocio di questi dati si trae se il corso ha prodotto risultati coerenti col proprio contenuto oppure no tutto il centro e nord Europa si fa così e poi si obbliga ogni centro di formazione professionale a pubblicare il dato sul tasso di coerenza della formazione impartita negli ultimi tre anni capite che se noi facessimo così noi forniremmo sia agli diretti interessati i lavoratori i giovani ma anche agli addetti all'orientamento scolastico e professionale uno strumento essenziale per l'orientamento questo in Italia non accade il dato questo dato che è il tasso di coerenza è fondamentale in tutti i servizi di orientamento che voi vedete funzionare bene nel centro e nord Europa in Italia manca mentre laddove questo dato è disponibile il job advisor l'addetto al career service al guidance service può avvertire guarda se tu imbocchi questa strada questo percorso hai l'80% di probabilità di andare a fare quella cosa se imbocchi quest'altro hai il 60% se invece ti scrivi a scienza delle comunicazioni hai il 20% di probabilità di diventare giornalista che è così sappilo ma se tu non dai questa informazione e non obblighi le facoltà i centri di formazione a pubblicare il dato chi deve compiere la scelta manca di un dato fondamentale scompie la propria scelta con la testa nel sacco in Italia questo dato non è disponibile e badate il Jobs Act vituperato famigerato Jobs Act all'articolo 13 ma non solo anche il 14 il 15 delineava esattamente questo del disegno scusate del decreto legislativo 150 che è quello appunto sulle politiche attive del lavoro delineava un sistema di anagrafe obbligatorio della formazione con pubblicazione obbligatoria del dato e a questo si è arrivati sulla base perché la materia è di competenza esclusiva delle regioni quindi lo Stato non avrebbe potuto legiferare sulla materia senza un'intesa con le regioni in sede di conferenza Stato e Regioni intesa che è stata raggiunta altrimenti non avrebbe potuto essere emanata questa norma quindi questa è legge dello Stato e però siccome l'anno dopo il referendum costituzionale ha dato l'esito negativo che sappiamo quindi non si è realizzato quel riassestamento delle competenze fra Stato e Regioni che permettesse allo Stato di esercitare un controllo questa norma è stata ignorata è stata totalmente disapplicata ma al punto che io vengo dalla Lombardia regione dove si vota fra due settimane per il Consiglio regionale ogni tanto nei dibattiti pongo la questione ma perché in Lombardia questa norma che è legge dello Stato accettata dalla stessa regione in sede di preparazione non viene attuata non è neanche conosciuta l'esistenza di questa di questa norma nessuno ne sa niente non se ne dibatte e invece è questione centrale per concludere il modello economico che rappresenta meglio i caratteri strutturali di un mercato del lavoro maturo come quello che abbiamo davanti agli occhi in cui viviamo non è più il monopsonio strutturale quello diciamo che era il modello uscito dalla prima rivoluzione industriale pensi semmai il monopsonio dinamico nel quale la distorsione c'è può esserci ne soffre una parte della forza lavoro ma non nasce da un difetto di difetto cioè mancanza di domande di lavoro e concentrazione di domande di lavoro non è questo il problema del nostro mercato del lavoro ma da un difetto di informazione formazione efficace monitorata controllata misurata e assistenza alla mobilità delle persone a questo nuovo contesto la tecnica di protezione del lavoro deve adeguarsi incentrandosi sul diritto alla formazione mirata della quale sia conoscibile il tasso di efficacia concludo leggendovi dal sole di oggi per puro caso venendo in qua da Milano leggo nei commenti di oggi questo articolo di Daniele Marini che è sociologo del lavoro a Padova che dice oggi il lavoro perde la caratteristica di virgolette necessità e diventa in misura crescente una scelta in una sorta di rovesciamento del paradigma esattamente quello di cui stiamo parlando e di cui diciamo che è oggetto di questa riflessione ormai da qualche anno così come il mercato è orientato dai consumatori per certi versi il lavoro è condizionato dalle aspettative dell'offerta di lavoro cioè dei lavoratori più che dalla domanda imprese sempre più frequentemente sono le persone a scegliersi il posto di lavoro più che le imprese a selezionare una persona quasi la metà delle persone attualmente occupate ritiene o intende di cambiare lavoro prossimamente metà delle persone hanno nel loro programma di vita di cambiare non pensano di star lì fino alla pensionamento alcuni hanno già opportunità alternative il motivo prevalente è legato a un aumento del reddito percepito ma non sempre di questo si tratta la maggioranza aduce motivi di natura espressiva tra virgolette conciliare il tempo di vita lavorativa con quello familiare migliorare il proprio equilibrio psicofisico aumentare la propria professionalità aumentare la propria professionalità una volta di più motivazioni legate alla soggettività dei lavoratori e quindi vedete non è una diciamo ormai sta diventando un'acquisizione solida della nostra cultura del lavoro e con questo dobbiamo fare i conti fino in fondo naturalmente tutto quello che vi ho esposto è meglio esposto e più compiutamente in modo più articolato in questo libro l'intelligenza del lavoro che come sottotitolo reca quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore e grazie della vostra attenzione grazie 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 professor l'ichino lei tra l'altro io l'ho comprato due volte perché quando ho presentato il suo libro nel 2020 avevo comprato il libro l'ho perso sono convinta che domani lo ritroverò come ho raccontato lei nel libro racconta anche che secondo lei questa inattuazione nel nostro paese di un'anagrafe è legata al fatto che girano troppi soldi nella formazione nel settore della formazione e quindi comunque una pulizia in qualche modo lede interessi particolari noi abbiamo un sistema in cui il finanziamento della formazione non avviene in base a una misurazione della tasso di coerenza che non è l'unico criterio è un elemento molto importante non l'unico la mia opinione è che la resistenza della politica e qui parlo di politica sia della destra che della sinistra perché la Lombardia è governata dal centro-destra l'Emilia dal centro-sinistra e però in nessuna delle due l'anagrafe della formazione è stata attuata e questa inerzia si spiega forse col fatto che per un assessore alla formazione è molto più comodo poter distribuire miliardi perché guardate che fra il Fondo Sociale Europeo e i soldi nostri italiani sono fiumi di miliardi e miliardi che spendiamo ogni anno in formazione è più comodo poterli assegnare secondo criteri clientelari o anche comunque criteri tradizionali perché capite che il giorno in cui noi avessimo fatto la mappatura dei tassi di coerenza e quindi anche della qualità della formazione a quel punto non si può più dare soldi a un centro di formazione che evidentemente funziona male insegna cose obsolete che non servono più a nessuno e quindi a quel punto bisogna chiuderlo e chiuderlo vuol dire licenziare qualcuno e licenziare qualcuno significa avere la manifestazione davanti all'assessorato dover avere una grana mentre la cosa più comoda è continuare a finanziarlo anche se non fa l'interesse dei lavoratori e non fa l'interesse delle imprese ma la risposta dovrebbe essere un'altra si chiude e si aiutano queste persone a invocare il percorso che le porta a essere più utili non dico mica che devono essere messe alla fame gli si deve dare un'indenità di disoccupazione ma condizionata al fatto che esse stesse si riqualifichino si riconvertano e tutto questo richiede un po' di fatica però è una fatica che renderebbe moltissimo basti dire che se è vero come è vero che abbiamo circa un milione di posti di lavoro che restano permanentemente scoperti per mancanza delle persone adatte lo skill shortage se noi fossimo in grado di costruire i percorsi che portano un milione di persone in cerca di lavoro a candidarsi efficacemente a quel milione di posti disponibili che sono lì senza bisogno di incentivi costi statali sono lì pronti e noi avremmo più che dimezzato la nostra tasso di disoccupazione dal 7 e mezzo a cui siamo scenderemo al 3 e mezzo 4 che è il tasso degli Stati Uniti d'America che è un tasso di disoccupazione frizionale non patologico ma noi continuiamo a preferire di spendere 30 miliardi in naspi e reddito di cittadinanza senza attivare la condizionalità sana che dire sì ti sostengo ma tu devi frequentare un corso che abbia il 70 l'80 probabilità su 100 di portarti a un lavoro l'offerta congrua di lavoro non esiste in Italia nessun imprenditore dice ho bisogno di un antennista o di un elettricista e quella offerta viene rifiutata quindi si perde l'indenità questo meccanismo teorizzato dalla legge non esiste non c'è un solo caso in Italia di persona che aveva perso il sostegno il sussidio per questo motivo professore